AXI è un'associazione che si occupa dei consumi, il mondo dei consumi è vastissimo, ci occupiamo di beni ma anche sempre più di servizi, dunque telefonia, vacanze, viaggi, assicurazioni, alimentazione. AXI in generale si occupa proprio di aiutare il consumatore nei vari problemi che possono capitare, appunto problemi di vario genere veramente, anche di consigliarli e di dare loro delle informazioni che permettano loro di fare le giuste scelte o se non altro delle buone scelte. Qui ci sono vari settori, il mio settore nel servizio Infoconsumi è di fornire la consulenza ai consumatori che ci chiamano per tutta una serie di problematiche e fra le altre tematiche c'è proprio anche il servizio di consulenza sulle casse malati. L'AXI dall'entrata in vigore della Lamal nel 1996 ha aperto un servizio di consulenza sulle casse malati per i soci dell'associazione. È un servizio molto utilizzato, tanto che nel 2010 abbiamo fatto un accordo col cantone e il servizio è gratuito per tutte le persone, non solo per i soci, tutti possono chiamarci. Poi nel 2015 ci si è resi conto che c'era una fascia di persone che aveva bisogno di una consulenza più approfondita e più personalizzata e il cantone ci ha dato mandato per fare appunto un servizio di consulenza sulle casse malati per i beneficiari di prestazioni sociali. La difficoltà maggiore adesso che incontro proprio qui all'AXI è il bisogno da parte di queste persone, di questi utenti che si rivolgono a noi, di potersi fidare, di potersi fidare di qualcuno che non li prenda in giro e che gli dia dei consigli che veramente gli possono essere utili. La casa malati è una delle voci che pesa di più sui bilanci sia delle famiglie che delle persone sole. Da quando è entrata in vigore la Lamal, ma forse anche già da prima, noi ci occupiamo di questo tema proprio perché richiede molti dei nostri soldi e dunque quello che noi cerchiamo di fare innanzitutto nei confronti dei consumatori è informazione, cercare di informare e far capire come ci si può muovere in questo mercato. Poi naturalmente c'è tutto il nostro lavoro più politico, noi siamo anche chiamati a rispondere a consultazioni quando ci sono modifiche di legge oppure quando si vota su temi riguardanti la casa malati, prendiamo posizione. Sono consulente qui presso l'Axi per questo servizio di consulenza agli utenti che beneficiano di prestazioni LAPS per appunto consigliare queste persone nella scelta della casa malati più a loro confacente diciamo. I premi vanno sempre più su però è possibile risparmiare sulla casa malati sapendosi muovere su questo mercato che è molto complicato. La nostra consulenza sulle casse malati è riferita proprio a un certo tipo di aiuto alle persone per ottimizzare i premi mensili. Una delle prime cose da capire, e qua noto che c'è parecchia confusione, nell'ambito dell'assicurazione, la MAL, cioè l'assicurazione obbligatoria, tutti gli assicuratori devono assicurare, devono offrire le stesse identiche prestazioni che sono definite appunto dalla legge. Dunque non c'è nessuna differenza fra le prestazioni offerte da una cassa malati piuttosto che da un'altra. E poi quello che è anche importante dire, che anche qui c'è molta confusione, è che nell'ambito sempre dell'assicurazione obbligatoria tutte le persone possono scegliere la cassa malati che vogliono. Anche gli anziani, anche i malati possono cambiare cassa malati e andare in una cassa malati meno cara. La confusione nasce dal fatto che la stessa cassa malati gestisce le assicurazioni obbligatorie e le assicurazioni complementari, che hanno delle regole molto diverse. Quando noi parliamo di la malpa, parliamo di un'assicurazione obbligatoria e qui c'è quello che si chiama il diritto al libero passaggio. Ogni persona, anche a 90 anni, anche malata, può scegliere la cassa malati che vuole e la cassa malati è obbligata ad accettarlo. Unica cosa che deve rispettare per lasciare la vecchia cassa malati è aver pagato i premi e non avere arretrati. Nelle assicurazioni invece facoltative, pensiamo, non so, quella che conoscono forse tutti, l'assicurazione per camera privata o semiprivata, siamo nell'ambito di assicurazioni private non obbligatorie, lì allora no, la cassa malati può anche rifiutare di prendere un assicurato. In Svizzera c'è la libera concorrenza, dunque ogni cassa malati può proporre il premio che più ritiene giusto a suo avviso. L'unico rimedio che resta il consumatore è quello di proprio cambiare cassa malati e di scegliere quella che più è opportuna per lui, cioè quella che costa di meno. Il fatto di cambiare cassa malati per entrare da una cara a una meno cara non comporta assolutamente un rischio per quello che concerne il rimborso delle prestazioni. Il primo modo per risparmiare è quello di scegliere le casse malati meno care perché sul mercato ci sono tanti assicuratori e non tutti hanno lo stesso premio. Poi c'è la possibilità eventualmente di aumentare le franchigie, la franchigia minima è di 300 franchi ma aumentandola magari a 2.500 franchi si hanno degli sconti sul premio. Chiaro che poi però se succede qualcosa bisognerà avere da parte questi soldi. E poi una cosa che noi diciamo di valutare è se non aderire a quelli che si chiamano i modelli alternativi e soprattutto quello del medico di famiglia che noi consigliamo, cioè l'impegno a rivolgersi sempre prima di tutto a un medico che si è scelto. Bisogna però tenere conto delle condizioni che queste cose richiedono, cioè se uno fa o decide di mettere il modello medico di famiglia ecco che il suo primo riferimento deve sempre essere il modello di famiglia perché altrimenti la sua casa malati potrebbe poi dargli delle sanzioni. Non c'è una categoria particolare, tutti chiamano, può essere la persona anziana, può essere il giovane che si ritrova per la prima volta a dover pagare autonomamente il premio, allora è chiaro che cominciano a interessarsi. Il servizio è rivolto a tutti ed è ben accolto da tutti. Le persone anziane sono molto più reticenti, hanno sempre questa impressione che non si possa cambiare la casa malati di base per idee che sono state magari anche tramandate nei tempi e le persone invece che vengono qua e che fanno capo a questo progetto LAPS a volte hanno anche difficoltà a fidarsi di noi perché in realtà non sanno esattamente chi siamo e non sanno che noi stiamo agendo per il loro pro. Quello che può fare il consumatore è però non sempre facile, me ne rendo conto, cercare di anche in questo settore di essere un consumatore consapevole, ecco forse non tutti ci rendiamo conto che c'è un sovraconsumo di medicina, si parla addirittura di un terzo delle prestazioni sanitarie che non sono basate su evidenze scientifiche, anche l'OMS lo dice, c'è veramente molto spreco, è chiaro che il consumatore potrebbe dare il suo contributo non consumando troppa medicina perché quello forse che non ci si rende conto, spesso le casse malati sono state fatte passare per le colpevoli, per le cattive, ecco ma le casse malati in fondo sono solo degli intermediari, se i costi sono 100 loro dovranno incassare 100 di premi per coprire i costi, se i costi diventano 150 loro incasseranno 150, ecco poi siamo noi a dover pagare i premi e i cantoni poi a contribuire per i costi degli ospedali oppure per i sussidi a chi non ce la fa a pagare i premi. Vedere che qualcuno, una famiglia magari di 4 persone riesce alla fine dell'anno o in un anno a risparmiare più di 2000 franchi perché ha cambiato casa malati, queste persone vivranno meglio e sono contenta, almeno io personalmente sono contenta se posso aiutarle in questo senso.